Possiamo sicuramente annunciare che commissariremo tutte le Oga della Puglia. Ci metterò ancora una volta la faccia in qualità di commissario e i miei sub-commissari saranno alcuni sindaci delle Oga. Daremo vita inoltre ad un processo partecipativo per ridisegnare la legge regionale sul ciclo dei rifiuti. Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che proprio a Brindisi ha presieduto la giunta regionale che si è riunita al Palazzo della Provincia. La principale novità riguarda i rifiuti, settore rovente per via anche dell'inchiesta che ha portato proprio all'arresto del sindaco PD di Brindisi, Mimmo Consales. La Puglia, ha spiegato Emiliano, non ha impianti sufficienti per consentire a tutti i comuni di fare la raccolta differenziata e il conferimento dell'umido. Non abbiamo ancora le strutture necessarie a valorizzare il rifiuto secco e umido, in modo tale da abbattere i costi. Troppo spesso la cattiva qualità degli impianti esistenti e la cattiva manutenzione delle discariche provoca emergenze che non possono essere superate senza un'adeguata programmazione. Sono stanco di fare ordinanze che, senza risolvere definitivamente i problemi, si limitano a superare contingenze che si sarebbero potute evitare. Il ciclo lo dobbiamo chiudere, ha concluso Emiliano. Dobbiamo evidentemente avere un'impiantistica pubblica che ci consente di attuare procedure corrette e trasparenti e non arricchire sempre i soliti nomi.